Aspetta, 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 figlio di... Carter? O devo dire Sam? Come avete fatto a trovarmi? Eravamo motivati. Che è successo qui? Il gioco. Nessun contatto con l'esterno. Niente che possa ferirmi. È questo il tuo piano? Il mio piano è di uscirne. Quello è il piano secondario. Il primo era quello di fottere noi. Tre dei miei migliori amici sono morti a causa tua. Mi dispiace. Ho perso amici anch'io, sai? Potessi tornare indietro, lo farei. Il modo esiste, ma dobbiamo tornare tutti alla missione. Un modo per finire il gioco? Come? Tu fidati di me e torniamo là. Ti ha detto la verità. E perché mi dovrei fidare? Perché vogliamo tutti la stessa cosa. Sopravvivere.